Una festa di tutta la città, scandita dai rintocchi della campana che per la prima volta dopo dieci anni torna a risuonare in una porzione di centro storico per troppo tempo avvolta nel silenzio. La chiesa di San Silvestro, come molte altre all'interno del centro storico cittadino, è sempre stata un importante punto di riferimento per la vita religiosa e sociale dell'Aquila, ma anche un monumento dallo straordinario valore culturale. Oggi torna nella sua elegante imponenza uno scrigno pieno di tesori d'arte che raccontano la sua storia secolare e con essa viene riconsegnato l'ultimo tassello di un luogo del centro storico all'interno delle mura urbiche che torna finalmente alla normalità. San Silvestro ha subito ingenti danni dal terremoto che ha provocato il cedimento parziale sul prospetto laterale, fessurazioni alla facciata che ha rischiato di ribaltarsi, lesioni alla torre campanare e all'area absidale. Ma dopo tre anni di lavori di consulidamente restauro architettonico e storico-artistico, costati quasi 7 milioni di euro, oggi si mostra di nuovo nella sua magnificenza. Spiccano capolavori come gli affreschi attribuiti al maestro di Beffi e a quelli di Francesco da Montereale. Ci troviamo di fronte a un monumento tra i più significativi della città dell'Aquila, ma direi del patrimonio culturale abruzzese nazionale, dove la bellezza architettonica e dello spazio si unisce alla qualità artistica degli apparati decorativi. Quindi veramente per noi è un momento di soddisfazione. Con soddisfazione posso dire che è una delle chiese dove la riapriamo comprensiva anche delle opere d'arte mobili. Quindi è una chiesa che può essere rifruita per lo svolgimento del culto in maniera ampia e totale. Le specifiche tecniche riguardano sia la sicurezza antisismica del complesso che aveva subito a seguito del sisma rilevanti danni, soprattutto in facciata dove c'era un incipiente ribaltamento e poi sul campanile, nonché nella parte absidale. Quindi l'intervento tecnico ha riguardato il miglioramento strutturale antisismico e poi consistenti sono stati gli interventi anche sul preziosissimo apparato decorativo di questa chiesa. Tante le istituzioni presenti questa mattina all'inaugurazione, insieme a tutto il gruppo di lavoro che negli ultimi tre anni, con un ritmo molto serrato, ha cercato di riconsegnare la chiesa agli Aquilani nell'anno del decennale del sisma. Abbiamo avuto delle scoperte, di cui una particolarmente significativa in sacrestia, perché è venuto fuori un lacerto di affresco che è ancora tutto da leggere e da interpretare correttamente, ma che sicuramente costituisce la prova ad affresco, la prova pittorica più antica in questo contesto che è tutto decorato. E lavorando lungo le pareti, andando più a fondo di quanto non avesse fatto Moretti nel corso del suo intervento, di ripulitura di questa chiesa, di tutto ciò che c'era di barocco e di ripristino dell'originaria struttura, abbiamo rinvenuto tanti lacerti di affreschi di epoca diversa. Abbiamo dei cicli di affreschi, il ciclo dell'abside centrale attribuito a questo maestro di Beffi, che è sicuramente un capolavoro assoluto, per non parlare della cappella Brancone e per non parlare della cappella poi ad Ovest, dove abbiamo restaurato un altare che accoglie la bellissima tela di Bacciociarpi, che è un capolavoro assoluto.